La CGL proclama lo stato di agitazione dei lavoratori che si occupano del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Scicli e chiede un incontro con il sindaco e il prefetto per discutere della situazione ormai divenuta secondo quanto denuncia il sindacato insostenibile. La CGL punta il dito contro la ditta puccia di Modica che attualmente gestisce il servizio. Tante infatti sarebbero le criticità dal pagamento e ritardo delle mensilità e dei rimborsi IRPEF fino alle violazioni in materia di orario di lavoro e alla mancata sottoscrizione di un accordo aziendale con la CGL firmatari a livello nazionale del contratto di settore. Molte ore di straordinario, denunciano ancora dal sindacato, non vengono pagate ai lavoratori e registriamo lo sforamento di tutti i limiti del monte ore giornaliero settimanale e annuale che induce gli autisti a violazioni del codice della strada. L'azienda, continua la nota della CGL, non ha ancora provveduto all'iscrizione al fondo sanitario. Diverse sarebbero poi le irregolarità per quanto concerne il riconoscimento dei parametri e dei livelli e ad oggi non sarebbero ancora stati consegnati ai lavoratori certificati di donità alla mansione. Ne sono stati svolti i corsi per la sicurezza. La FPCGL accusa inoltre la ditta di aver creato un clima di soprusi e abusi con provvedimenti arbitrari nei confronti di alcuni lavoratori la cui unica colpa sarebbe stata di aver partecipato alle ultime assemblee sindacali convocate nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dal contratto avendo svolto le assemblee di due ore a fine turno per creare meno disagi possibili al servizio. La CGL chiede quindi l'intervento delle istituzioni affinché si possa intervenire nei confronti dell'azienda verificando l'esistenza dei requisiti previsti dal BAMD e delle norme in vigore in materia di iscrizione alla white list. I rappresentanti dei lavoratori comunicano infine l'immediata interruzione delle relazioni sindacali con la ditta Puccia e annunciano la possibilità della proclamazione di alcune giornate di sciopero nel mese di settembre.